Non comprate in spiaggia dagli abusivi e questo l'appello che Confcommercio fa partire da Francavilla rivolgendosi ai bagnanti e ai turisti. Invito concretizzatosi in un vademecum che sarà affisso in tutti gli stabilimenti barneari per informare i cittadini sui rischi che si corrono acquistando merce contraffatta con multe che possono arrivare anche a 7.000 euro. La contraffazione è un danno per lo Stato, un furto per le imprese e un crimine per la società. C'è questa stretta correlazione tra mondo della contraffazione e criminalità organizzata. Quindi comprare falso significa anche arricchire la malavita e la criminalità organizzata. In quest'estate 2015 saranno intensificati i controlli sugli abusivi. Per questa iniziativa, infatti, Confcommercio ha ottenuto l'appoggio di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizie Locali. Si punta a tutelare l'economia e la salute. Anche nei prodotti di pelletterie, di calzature, di abbigliamento che più spesso vengono venduti sulle spiagge possono contenere dei collanti che possono essere allergenici o addirittura cancerogeni.